Allora, come anticipato veniamo al successivo argomento, iniziamo oggi, tra oggi e domani, a affrontare la modellazione del sistema informativo non più dal punto di vista statico, cioè di concetti e dati e informazioni, ma cominciamo a vedere anche l'aspetto dinamico, cioè i processi che vengono gestiti da questo sistema informativo. Non fatevi fregare dalla parola business, non vediamo i soldi qua, non vediamo le attività, cioè i processi che l'azienda porta avanti e che in parte saranno gestiti dal sistema informativo. Su questo in parte poi dovremo un pochino lavorare. Quindi dei vari aspetti che sono quello informativo, quello centrale, siamo al centro di questa slide, ciò che abbiamo visto finora, e oggi ci occupiamo invece della modellazione dei flussi. Cosa avviene prima e cosa avviene dopo? Devo registrarmi prima di poter inviare un messaggio? Devo caricare una fattura prima di poter ordinare il pagamento? E cose di questo genere. Quali sono le relazioni logico-temporali che il nostro sistema informativo dovrà garantire nello sviluppo dell'attività? Noi non abbiamo un sistema che permette di fare qualunque cosa in qualunque momento, ma in alcuni momenti sono possibili certe attività e non altre. Tu non puoi fare la domanda di completamento tesi se non hai fatto un certo numero di settimane prima la domanda di assegnazione della tesi. Regole di questo genere che sono regole di business, diciamo così, regole di logica operativa, in qualche modo dobbiamo imparare a rappresentarle. Quindi non basta dire solo ci sono questi dati, il sistema informativo gestisce questi dati e poi diremo anche come questi dati possono essere modificati, inseriti, ricercati, ma dovremmo mettere dei vincoli sui momenti in cui certe operazioni che portano poi alla modifica dei dati sono possibili rispetto invece ad altri momenti in cui non sono possibili. Poi aggiungeremo ancora un altro elemento, quando si può fare una certa operazione e chi la può fare, il discorso dei permessi di accesso, ma per il momento non ce ne occupiamo ancora, parlano di processo, cominciamo a vederlo ma ce ne occuperemo meglio più avanti quando parleremo della parte poi di interazione, cioè dell'utente che comincia a usare il sistema. Per ora stiamo modellando un processo e quindi vediamo qual è la sequenza di, parli di sequenza ma in realtà avremmo dei costrutti che sono più complicati rispetto alla semplice sequenza temporale, ma tanto diciamo, perdendo con parole povere, la sequenza di eventi che accadono nel mio sistema informativo visto in senso generale, cioè comprendendo anche gli eventi che accadono grazie alle persone o agli oggetti fisici o alla carta che si sposta, non solamente, quando parliamo di processo, il processo non è solamente quello del sistema informatico, perché normalmente è una piccola parte, poi il sistema informatico magari gestisce il 10% o gestisce il 90% del processo, dipende dai casi, ma sicuramente c'è sempre di mezzo una componente almeno umana, se non puoi, diciamo di sistema anche. Sempre usando il linguaggio del formalismo UML, a cui abbiamo cominciato già a abituarci per quanto riguarda i diagrammi delle classi, nel caso della modellazione di processo si usano i cosiddetti diagrammi di attività, o activity diagram, che è ciò che cominciamo a studiare oggi. Quindi noi vogliamo imparare questo formalismo che ci permetta di definire il più precisamente possibile, il meno ambiguamente possibile, un processo, cioè un flusso di lavoro, di fatto alla fine sono poi vincoli di dipendenza temporale, logico-temporale. Una cosa può essere fatta solo se un'altra cosa è stata fatta prima, solo se è lunedì mattina, solo se quei tre prerequisiti sono tutti e tre verificati, allora posso farla. E fin tanto che questa cosa non è completata, non ne potrò fare delle altre successivamente. se voi andate a leggere qualunque procedura operativa, di fatto parla in questi termini, devi fare certe cose e poi solo dopo potrai farne altre, oppure solo dopo il tuo collega potrà farne altre, perché il processo è qualche cosa che coinvolge varie persone o vari attori all'interno della sua esecuzione. Io vedo il processo non dal punto di vista del singolo operatore, di che cosa deve fare lui. Lui gestirà un pezzettino di processo per varie, fate misura ai termini, pratiche, immaginate una pratica burocratica. Questa qua inizia con, ipotizziamo un cittadino che gli presenta una richiesta, la presenta a un operatore, il quale fa delle cose, poi la passa al collega, il quale poi la passa all'ufficio, poi va in ragioneria, poi arrivano i pagamenti, eccetera. Ognuno fa un pezzettino. Il processo però è dal punto di vista della pratica, che inizia e finisce, e attraversa molte fasi diverse, ciascuna delle quali viene fatto un pezzo di lavorazione da parte della persona diversa. Quindi il punto di vista da cui ci mettiamo è il punto di vista della pratica, se vogliamo seguire questo esempio, del prodotto, che incontra strada facendo varie trasformazioni. Poi ci sarà l'impiegato dello sportello che farà per tutto il giorno solamente il primo pezzettino del processo. Ma noi non siamo in questo momento interessati a descrivere cosa fa lui, qual è il suo processo di lavoro, ma è il processo complessivo, il processo di business, il processo che porta l'ente o l'azienda a erogare un certo prodotto finito. E quindi questo, a volte lo chiamiamo processo, a volte lo si chiama più semplicemente workflow, cioè di fatto il flusso dei vari passaggi che è un determinato work, un determinato un'entità di lavoro, unità di lavoro, sui passaggi che questa entità di lavoro compie. e quindi come sempre noi dobbiamo rappresentare, documentare, riuscire poi a analizzare, catturare ciò che succede. Questo è uno dei primi passi quando si va ad immaginare una nuova implementazione, una nuova organizzazione di un sistema informativo, è capire i processi che devo modellare. Se non è chiaro, e di solito poi succede, che molto spesso non è chiaro quali siano i processi con cui le attività vengono svolte. Si fanno delle cose, la gente sa che cosa deve fare, ma non c'è scritto in nessuna parte. Il processo si crea semplicemente per consolidamento di abitudini o di prassi. Ecco, però se tu sei un consulente che deve costruire o progettare un sistema informativo, queste prassi devi in qualche modo estrarle, capirle e documentarle, scriverle, perché altrimenti le singole persone le conoscono e quindi la macchina va avanti, ma quando devi informatizzarle non puoi partire dalle tue ipote, delle tue assunzioni, ma secondo me si fa così. O sarebbe ragionevole fare così. Nell'estrarre questi processi, che quindi innanzitutto sono processi di persone, e poi in parte vorremmo migrarli a processi informatici, a volte si scopre che i processi così come sono fanno pena, o sono altamente migliorabili. Allora questo è un momento abbastanza critico in cui uno deve decidere quanto il sistema informativo si deve adeguare ai processi esistenti, as is, senza toccarli, e quanto invece l'occasione di ripensare il sistema informativo non diventi anche l'occasione per ripensare i processi operativi veri e propri. Questo è ovviamente terribilmente critico perché tu intravedi l'opportunità di fare le cose meglio, in modo più efficiente, più trasparente molte volte, ma poi magari trovi le resistenze di chi ha sempre fatto così oppure chi preferisce che le cose siano complicate perché così le può dirigere in modi diversi, eccetera. Quindi sempre la parte complessa. Non è indifferente rispetto ai costi, perché se tu hai dei processi che sono complicati e contorti, li puoi sempre sicuramente modellare e gestire a livello informatico, ma magari ti costa il triplo che non cogliere l'occasione magari per semplificare qualche cosa. Discorsi che avvengono sempre e di cui difficilmente poi si riescono a prendere decisioni chiari. Noi per ora siamo interessati all'aspetto di modellazione, ma dietro questo appunto c'è c'è la comprensione di come si lavora. Ecco, in alcuni casi, non sarà il nostro caso, la rappresentazione di processo che si genera può essere, se si usano opportuni formalismi più formali di quelli che usiamo noi, alcuni opportuni strumenti, questi modelli sono modelli eseguibili. Cioè, una volta che ho disegnato il mio modello col tool grafico, ho metto tutte le freccioline a posto, noi ci fermiamo lì, quella è la documentazione del processo, che poi servirà come specifico, che servirà come validazione, eccetera, eccetera. Ma, in alcuni casi, quello stesso modello può essere eseguibile nel senso che posso simularlo, quindi vedere il mio processo che va avanti per capire se è un processo complesso, se ha dei problemi oppure, diciamo così, scorre liscio, oppure addirittura generare del codice, quindi salvo in un certo formato e ci sono dei motori di workflow che di fatto leggono questi formati e sono in grado automaticamente di gestire l'evoluzione delle attività. Quindi diventa, a volte si parla anche di model driven development, cioè sviluppo di sistemi informativi model driven, cioè partendo dal modello. E quindi l'attività di modellazione non assume solamente più una valenza di analisi, di documentazione specifica, ma anche già di progettazione vera e propria. Poi, ovviamente, non basta questo per fare un sistema informativo che si fa da solo, no? C'erano poi tanti altri elementi e la programmazione serve, però quella parte che io ho descritto, ho documentato, la riporto tale e quale nel cuore del sistema informativo che gestirà poi effettivamente le video e altre, tanto per capirci. Quindi, in realtà, questo richiederebbe che la notazione fosse, come si dice, formale, cioè di fatto ciò che disegniamo è un linguaggio di programmazione, alla fine, a tutti gli effetti, o può essere tradotta in modo non ambiguo in un linguaggio di programmazione. Il problema di queste notazioni, la promessa di generare automaticamente il codice è bella, ma il problema è che ti obbliga molto spesso a fornire un livello di dettaglio molto elevato. Devi dire tutto, perché altrimenti poi la macchina come fa a saperlo? Ecco, questo livello di dettaglio elevato, di precisione, di dettaglio elevato, nei formalismi che sono eseguibili, dà un po' fastidio, soprattutto nelle fasi iniziali in cui stai cominciando ad abbozzare il sistema. Quindi non ti interessa ancora dare il dettaglio di tutto, ma perlomeno una vista di insieme dei blocchi principali. Se poi alcuni rimangono ancora non meglio specificati, perché li deve ancora esviscerare, deve ancora studiarli, eccetera. E quindi si usano, e noi useremo, delle rappresentazioni che chiamiamo semiformali. Cioè usiamo un linguaggio formale come un UML, però senza andare ad essere troppo pignoli nei dettagli, negli attributi, eccetera. Che è sempre il punto di partenza, che poi eventualmente in alcune metodologie di lavoro può diventare più formale, in altre invece rimane a livello di descrittivo. qui ci sono alcuni esempi di formalismi che si trovano in giro, che sono grossomodo intercambiabili, sono strumenti diversi per arrivare allo stesso obiettivo. Noi ovviamente ci concentriamo almeno in prima battuta, poi non so se avremo tempo di fare un flash sugli altri, ma in prima battuta ci concentriamo ovviamente sulla proposta di formalizzazione che ci dà l'UML, in particolare gli activity diagram, i diagrammi di attività. Quindi, gli activity diagram sono di per sé una notazione formale, ma noi useremo in modo semiformale, perché ci servirà solamente come fare di cattura iniziale, specifica iniziale del funzionamento del sistema, dei processi, dei processi del sistema, inteso come sistema di business, sempre e non ancora come sistema informatico in un specifico. Allora, cosa modelliamo? Quali sono gli ingredienti di questi activity diagram? Il primo sono le activity, cioè le attività, i singoli processi, le singole fasi dei processi, delle regole, le regole con le quali queste attività si possono succedere l'una all'altra. Possono andare in parallelo, uno deve aspettare che l'altra finisca, dobbiamo essere tutti pronti perché una terza, tre attività devono essere pronte affinché la quarta possa partire, regole di questo genere. E poi, l'ultimo elemento che già si avvicina a definire che cosa farà il sistema informativo rispetto a che cosa fa invece il resto del mondo, delle persone, dell'azienda, è associare le responsabilità alle attività. Cioè, questa attività qua, chi le deve fare? Non come nome e cognome, ma come ruolo, chiaramente. Qual è la figura, la persona, il gruppo, l'ufficio che è responsabile di portare avanti questa attività? A chi sta la palla in questa fase? o la patata bollente spesso. E questo lo possiamo descrivere. Poi, alcune di queste attività potranno essere in carico, diciamo così, il sistema informativo, cioè, le fa da solo, le sue cose automatiche. Altre potranno essere attività totalmente manuali, altre potranno essere attività che un operatore umano svolge con l'ausilio del sistema informativo. Ma ci sono tutti tre i cari. C'è una cosa che continuiamo a fare a mano e va bene. Una cosa per cui c'è una procedura gestita dal sistema informativo ma ci vuole qualcuno ovviamente che ci metta i dati dentro, l'attivi, la provi, eccetera. E invece alcune cose, poche, di solito purtroppo, possono avvenire in modo automatico perché non hanno bisogno di ulteriori input, di ulteriori conferme da parte dell'operatore umano e quindi di fatto sono degli automatismi all'interno del sistema. Che sono quelli che a noi tutto sommato interessano meno. Perché sono più un aspetto di implementazione, perché non impattano sul modo di lavoro. A meno che invece non vadano, non riusciamo a diciamo così implementare con un automatismo, con un'attività automatica cose che invece oggi si facevano manualmente. Allora a questo punto stiamo implementando uno sgravio di attività sulle persone. Questo tende a essere gradito. Allora, cosa sono questi diagrammi? Quindi, sono composti da queste tre informazioni che dobbiamo mettere dentro e vediamo dal punto di vista sintattico e grafico organizzati. Partono da un formalismo logico-matematico precedente che si chiama State Charts proposto da un certo Arel tanti anni fa ma che poi sono stati in qualche modo reinterpretati e modernizzati per essere compatibili con un modello oggetti come quello dell'UML perché gli State Charts iniziali non erano fatti oggetti ma che sono pensati progettati per rappresentare sequenze temporali di attività e i flussi di dati associati. I flussi di dati noi in questo caso non facciamo mai troppa attenzione ma ricordiamoci di pensarlo in questo caso. Cioè se due persone devono collaborare su un processo quindi io faccio certe attività poi quando ho finito io continui tu ecco in questo continui tu ci sono due informazioni una temporale cioè adesso puoi partire perché io ho finito e quindi c'è l'informazione temporale che io ho finito ma poi quando dico continui tu ti devo dire a che punto ero arrivato ti devo passare delle informazioni non è che parti da zero senza sapere di cosa si tratta e quindi ogni volta che un processo in qualche modo un'attività di un processo ne sblocca un'altra lì dentro c'è un trasferimento di informazioni perché tu puoi andare avanti quali sono i dati del e qui facciamo riferimento al modello concettuale che io oggi ho creato nella mia parte di attività e che tu potrai usare consumare utilizzare nella tua seconda parte di attività quindi ogni passaggio di un processo comporta sempre un aspetto di sincronizzazione tu puoi partire perché io ho finito e un aspetto di trasferimento di informazione quasi sempre e quindi in qualche modo stiamo descrivendo quello che è un algoritmo anche se di alto livello cioè non ci mettiamo le formulette non ci mettiamo l'if non ci mettiamo il while però stiamo descrivendo ad alto livello come funziona un algoritmo complesso distribuito con delle parti che vanno avanti in parallelo con varie persone che fanno varie attività quindi è qualcosa di molto più ad alto livello molto più complesso rispetto a una funzione scritta in un linguaggio di programmazione dove appunto la sincronizzazione e la parallelizzazione delle attività sono fondamentali non c'è nessun azienda che si può permettere che i propri processi vadano avanti in modo puramente sequenziale cioè uno lavora gli altri stanno a guardare poi quando quello è finito qualcun altro riprende va bene per i lavori stradali questo modello in cui uno lavora gli altri guardano allora nella pratica le attività o azioni o task o operazioni quindi singoli passi di cui è composto un processo sono rappresentati da un semplice rettangolo dentro il quale scriviamo cosa succede lì cosa avviene durante quella fase quell'azione quel task quell'operazione quindi noi innanzitutto dobbiamo decomporre un processo che può essere anche molto complicato in una molteplicità di azioni 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 che siano definibili cioè tu devi poter dire lì dentro cosa viene fatto devi poter dire se quel lavoro in qualche modo può cominciare di che cosa ha bisogno che cosa farai cosa genererai ma soprattutto che cosa farai cioè nel senso che sia chiaro dalla definizione che cosa avviene lì dentro poi ciascuno di questi processi come dicevamo prima potrà poi essere svolto da un umano potrà poi essere svolto dal sistema informativo o dal team dei due non ci interessa ancora in questa fase ci interesserà quando attribuiremo responsabilità ma in linea astratta il fatto che a un certo punto una cosa debba essere fatta è vero indipendentemente da chi la faccia se una certa fase è necessaria se l'automobile la devo verniciare a quel punto la devo verniciare punto non posso andare avanti a montare i sedili finché non ho verniciato la carrozzeria che poi la verniciatura la faccia da una persona o la macchina o il robot in questo caso si sono opzioni diverse ma il processo prevede che a quel punto venga fatta quella quella azione ok queste attività finora le abbiamo disegnate così in ordine sparso l'elenco di tutte le attività che le varie figure le varie persone i vari uffici i vari enti all'interno dell'azienda svolgono queste attività non sono sparse sono organizzate in processi come dicevo prima la pratica a un certo punto la pratica arriva il dirigente che la firma e ci sarà un'attività firma firma perché? ma perché a monte c'è stata tutta una serie di fasi precedenti attraverso cui questa pratica è passata e poi è arrivata alla firma del dirigente quindi queste attività le dobbiamo organizzare in processi processi che di solito hanno un inizio e una fine dovrebbero averlo l'inizio è facile e la fine che tante volte non si riesce a trovare e quindi dal punto di vista grafico noi usiamo questi due simboli un pallino semplice un pallino grigio-nero e un pallino con il bordo doppio quindi due cerchi concentrici per indicare l'inizio e la fine quindi un processo avrà sempre un nodo iniziale che identifica il punto da cui il processo parte dove nasce l'esigenza di svolgere un certo tipo di attività che sarà composta da una sequenza di passi di azioni e poi avrà anche un nodo finale che dice quando questo processo è finito è terminato quindi ce ne possiamo dimenticare di quel processo ce ne possiamo dimenticare salvo eventualmente ricordarci di averlo fatto a fini statistici ma a fini operativi non ci interessa più nulla di quella pratica l'abbiamo conclusa e non vuol dire che Tizio se l'ha tolta dalle scatole perché l'ha passata a Caio perché se Tizio e Caio fanno parte dello stesso ente il processo la pratica è ancora attiva fino a quando non arriva poi diciamo così in un solo stato definitivo ecco per modellare questo evolvere di un processo attraverso varie fasi da uno stato di partenza a uno stato di arrivo ma attraverso varie attività intermedie usiamo una una metafora una semantica che è quella di un token di un gettone noi immaginiamo su diagrammi che disegneremo che il nodo di partenza sia un nodo che crea un token questo token poi viaggerà attraverso il diagramma di attività attraverso l'attività di diagram con le regole dei singoli diagrammi delle singole parti del diagramma fino a quando il token riuscirà ad arrivare al nodo finale il nodo finale distrugge il token e conclude il processo quindi il token si porta dietro l'informazione di qual è il punto a cui è arrivata quella determinata pratica questo l'ho già fatto questo lo sto facendo questo lo devo ancora fare sono lì quindi noi ciò che dobbiamo imparare sui vari costrutti del diagramma di processo del diagramma di attività sono le regole con cui questi token influiscono nelle slide il token lo rappresentiamo con questo fiaschetto che è il segnalino del monopoli che quando arriva una nuova richiesta il token viene posizionato nel noto di partenza l'effetto dell'esecuzione del processo se il processo viene eseguito correttamente quindi senza errori senza problemi è che il token a un certo punto arriverà al nodo finale del processo quindi da questo punto di vista lo scopo di tutte le aziende del mondo è quello di giocare a monopoli o di spostare i token dei propri processi tutti nel nodo finale seguendo delle regole purtroppo gli imprevisti le probabilità a seconda di quello che ti capita di dove capita il token dovrai fare attività diverse allora quali sono le regole di viaggio del token di questa versione malata del monopoli beh questi sono i costrutti ovviamente partiamo da quelli più semplici e poi nell'arco di queste due settimane andremo a vedere anche quelli più complessi ma inframezzandoli sempre con degli esempi allora il più semplice è la sequenza cioè un processo può essere composto da una serie di azioni successive l'una all'altra posta in sequenza in serie in ordine sto usando i vari sinonimi che potete magari poi trovare nella descrizione informale che vi fanno pensare alla relazione prima o dopo cioè un'azione in un processo diventa abilitata cioè riceve il token nel momento in cui l'azione precedente è completata ossia rilascia il token quindi immaginiamo che un'azione può cominciare a lavorare quando riceve il token dice tocca a te quando ha finito di lavorare questa azione lascia il token lo cede a qualcun altro se due azioni sono messe in sequenza significa che la cessione del token ossia il termine dell'attività dell'azione precedente coincide o perlomeno permette l'avvio dell'attività per l'azione successiva se non abbiamo tempi morti coincide se invece abbiamo tempi di attesa invece può semplicemente dire ok adesso questa pratica è tua la puoi portare avanti ma magari in questo momento tu non la stai portando avanti rimane in attesa sulla tua schivania ovviamente questo era il costruito più semplice di tutti costruzione sequenziale di una serie di azioni consecutive come si rappresenta? si rappresenta con una freccia una freccia che collega due attività oppure due qualunque nodi di un diagramma di attività quindi questo è un semplicissimo processo di esempio in cui abbiamo una prima fase quella di ricezione di un ordine e una seconda fase che è quella di inviare le informazioni di pagamento se tu mi ordini una bicicletta io ti rispondo dicendo sì ok fammi il bonifico a queste coordinate ovviamente lo posso fare solo dopo che ho ricevuto l'ordine primo perché so chi è la persona che mi ha fatto l'ordine e secondo perché so che cosa mi ha ordinato allora posso dirgli versa questa cifra in queste coordinate dentro questa data non è che mi metto a mandare in giro il primo che passa dicendo senti dammi 200 euro su questo conto devo farlo solamente se questa persona mi ha richiesto una certa prestazione quindi questo inviare informazioni di pagamento non può iniziare non può partire finché io non ho ricevuto e fatemi dire parlando di sistema informativo e registrato la ricezione di un ordine ecco dal punto di vista in questo processo cosa succede che il processo parte viene creato il token poi c'è una freccia tra la partenza e la prima attività allora il token se non ha impedimenti lui va quindi quando vede questa freccia lui va e arriva fino qua a questo punto la carta degli imprevisti dice che devi fare certe cose in questo caso si è fermato sulla casella che dice ricevi ordine quindi in questa fase il token rimane prigioniero di questa casella mentre qualcuno qui non diciamo ancora chi qualcuno svolgerà questa attività è qui che dobbiamo essere sicuri di aver spiegato o specificato bene in che cosa consiste questa attività perché devo poter riuscire a capire se ho tutte le informazioni per poterlo fare e anche capire quando è finito cioè dove comincia e dove finisce questo pezzo di attività fino a quando però questa attività non è finita il token rimane prigioniero dicevo di questa casella quando invece questa attività è terminata quindi la persona il gruppo lente che ha in carico l'esecuzione di questa attività la responsabilità di eseguire questa attività finisce allora il token viene in qualche modo liberato viene portato in uscita in uscita da questo blocco il token è libero di cadere quindi il token può solo star fermo dentro le attività e il fatto che sia dentro le attività significa che quell'attività è in corso c'è qualcuno che non lo sta facendo ma ha la responsabilità di farlo può essere appena la porta d'ingresso dell'attività del tipo è in coda lì sono arrivato neanche ancora guardato ma sappiamo che tocca lui oppure può essere già dentro nella pancia dell'attività viene ben lavorato questo non ce lo dice il diagramma non ci dice a che punto è dello svolgimento di quell'attività sappiamo che gli è stato assegnato e prima poi finirà se volessimo avere informazioni in più su come fa su che punto è questa attività dovremmo modellare il processo a un livello di dettaglio maggiore in questo caso non è così quindi queste attività sono per noi blocchi opachi cioè non usciamo a vedere dentro cosa stanno facendo riusciamo solo a capire quando sono abilitati e quando il token è arrivato e quindi se ha voglia e tempo lo può fare e quando sono terminati cioè lui dichiara di averlo fatto queste sono le uniche due azioni che posso vedere ti ho passato il token e quindi se vuoi puoi cominciare io non so quando cominciare effettivamente non me lo modella questo e poi l'altra azione mi dici che hai finito sono le due cose che posso vedere dire che ho finito significa rilasciare il token e nel caso di una relazione sequenziale cioè una freccia il token cade tranquillamente non si può fermare fino a quando non incontra una prossima azione ecco questo token si sta portando dietro delle informazioni parlavamo prima di data flow si sta portando dietro le informazioni su qual è l'ordine che è arrivato o un sottoinsieme dell'informazione sull'ordine che è arrivato perché chi deve svolgere la seconda attività ha bisogno di alcune delle informazioni che sono state gestite dalla prima attività quindi il token il fiaschetto man mano che va avanti in realtà si riempie di informazioni e le porta avanti noi quello che possiamo immaginarci è che ci sia in questo spostamento del token o una o più classi del nostro modello concettuale che si sposta insieme quindi in realtà quello che dobbiamo chiederci perché poi il sistema informativo quello farà è quando definiamo una dipendenza di questo genere chiediamoci ma qual è l'informazione che chi ha fatto questa lavorazione ha prodotto informazione prodotta e che dovrà essere usata consumata da chi dovrà fare la lavorazione successiva ce l'abbiamo nel modello concettuale questa informazione ce la siamo ricordata oppure manca qualcosa di là per poter gestire il processo di qua sono due facce della stessa medaglia quali sono le informazioni e che cosa ci faccio settimana scorsa dicevamo proviamo non pensare che cosa ci dovrò fare perché ci dobbiamo concentrarci sull'aspetto statico adesso che pensiamo che cosa ci dobbiamo fare però abbiamo i verbi adesso faccio questo ma i sostantivi sono quelli della settimana scorsa sono quelli del modello concettuale ci possiamo è frequentissimo accorgersi che manca qualcosa e lo si va a aggiungere il processo di modellazione è un processo iterativo e poi va avanti così nel senso che una volta che ha finito la seconda attività chi deve compiere questa seconda attività dichiara che verrà finita lascerà ovviamente tracce di ciò che ha fatto nel modello informativo e quando rilascia questo token il token cade lungo la freccia che mi dice sequenza e in questo caso specifico arriva al nodo terminale il nodo terminale distrugge il token e quindi questa attività è completata scusate questo processo è completato ok? come nel monopoli di segnalini ne potete avere tanti contemporaneamente c'è il fieschetto la la candelina il funghetto la mela la pera eccetera no? e così anche nei processi tu puoi avere tante pratiche tanti prodotti tante attività in corso in parallelo ciascuna ciascun segnalino ha una sua uno suo stato di avanzamento cioè ti so dire dove sono arrivato nel processo devo saperti dire dove sono arrivato nel processo e ha dei dati associati che sono diversi quindi sarà associato a una parte a distanze del modello concettuale diverse dalle altre le classi saranno le stesse ma le istanze saranno diverse e tutti questi vanno avanti in parallelo nello stesso diagramma ciascun token segue le regole del diagramma ok questa è la rappresentazione più semplice la sequenza pura è semplice l'opposto di fare le cose in sequenza è fare le cose in parallelo cioè anziché avere tre attività e devo farle rigidamente in sequenza faccio l'attività 2 solo dopo che ho terminato l'attività 1 magari sono attività che sono tutte e tre necessarie ma possono essere fatte in qualunque ordine senza un particolare vincolo di ordine in particolare potrebbero anche essere fatte in parallelo cioè in simultanea un po' ci confonde questo nome divisione parallela dei compiti che è il nome che prende questo costrutto il parallel split la divisione parallela ciò che stiamo dicendo non è devono essere fatte in parallelo ciò che stiamo dicendo è l'importante è che siano fatte non ci importa in che ordine e quindi magari sono fatte in parallelo o magari sono fatte una per volta o magari ne comincio una faccio un po' di una un po' dell'altra e poi torno sulla prima non lo so non mi interessa l'importante è che poi tutte e tre siano finite quando voi avete fatto domanda di laurea avete dovuto consegnare il bollettino la tesi la domanda di laurea e i dati di alma laurea se non altri almanicoli del genere allora al momento della domanda queste quattro cose ci devono essere tutte e quattro sennò toccava rifare la fila da capo ma in che ordine abbiate fatto queste quattro cose è un problema vostro c'è un momento in cui le avete iniziate cioè che ne so la certificazione di alma laurea non la puoi fare se non hai finito gli esami e quindi c'è un momento in cui dici ok comincio un'attività che è composta di quattro sotto attività ma queste quattro sotto attività sono tutte una indipendente dall'altra a che ora che giorno vado a pagare il bollettino postale non c'entra nulla con che ora che giorno tipicamente di notte in cui finisco di scrivere la tesi ma il giorno che vado in segreteria devo avere fatto tutte queste quattro cose poi se riesco a convincere mia sorella ad andare lei alla posta allora effettivamente vanno avanti in parallelo queste attività perché mentre io finisco la tesi lei fa la coda alla posta ma magari no non importa all'impiegato della segreteria non interessa quando siete andati se ci avete mandato la sorella o se avete la scrittura del cane vi interessa che ci siano ok questo è ciò che stiamo modellando qua con la con questa nozione di divisione parallela nessuna dipendenza temporale tra le varie fasi che vuol dire che vengono comunque fatte magari una dopo l'altra ma non so in che ordine non mi interessa specificarlo non mi interessa vincolarlo non mi interessa prescriverlo oppure sono fatte in parallelo come lo rappresentiamo lo rappresentiamo attraverso questo tipo di notazione una barretta che chiamiamo vabbè parlo alle split oppure per gli amici fork fork come forchetta no? questo è il giro di una forchetta c'è il manico e poi si divide in più punte con tanta fantasia poi a quest'ora di pranzo magari si riesce a vedere anche vedere la forchetta quindi un punto di split o di fork è un punto in cui il flusso di esecuzione di un processo si divide in più flussi e poi a questo punto potete dire paralleli o indipendenti è uguale più flussi paralleli ci fa pensare che questo e questa cosa avvengano effettivamente in parallelo più flussi indipendenti significa che vanno avanti ognuno con la sua velocità magari in parallelo magari no ma non ci interessa a questo punto questo attiva delle attività questo attiva altre attività tra le quali non c'è più bisogno di sincronizzazione non è più necessario decidere chi fa che cosa prima questo nodo di fork che cosa fa al token? lo sdoppia arriva entra un token ne escono due lo sdoppia o lo divide in 3 in 4 in 5 a seconda ovviamente di quante frecce uscenti ci sono dal nodo di fork lo duplica lo sdoppia non ne crea uno nuovo se entra il fiaschetto come segnalino escono due fiaschetti non ne esce un fiaschetto e una mela non è un'altra pratica che a questo punto viene infilata lì è la stessa pratica che viene fotocopiata e mandata in due uffici diversi ciascuno di quali farà la stessa cosa farà delle cose diverse sugli stessi dati sulla stessa istanza quindi se vogliamo visualizzarcelo noi abbiamo l'attivazione del processo che parte col token svolge una certa attività poi occhio che la fork non contiene un'attività quindi non ferma il token il token arriva viene diviso e continua non si ferma lì perché non c'è lavoro da fare questo costrutto dice che quando avranno finito di ricevere l'ordine dovremo abilitare all'esecuzione entrambi queste attività in basso quindi quando quello finisce do semaforo verde per lavorare a questi altri due in contemporanea quindi quando il token cade arriva si divide e scende tutto in un'unica soluzione è andato via sono stati troppo veloci scende poi questi qui faranno il lavoro poi in realtà questo diagramma non è finito perché manca il nodo finale cioè che succede nel fork e arriva il token lo divido istantaneamente e faccio cadere sui due lati tre tutte le copie del token ce lo dobbiamo immaginare così a un certo punto però arriva divido tra varie persone varie sottoattività ma a un certo punto dovrà arrivare alla resa dei conti in cui si dice ok ma abbiamo finito tutte queste attività parallele o indipendenti che dir si vogliano sono arrivate tutte al termine perché se sono arrivate tutte al termine possiamo continuare alla fase successiva presentare questa benedetta domanda di iscrizione altrimenti no dobbiamo aspettare che tutte finiscano quindi a un certo punto questo avviene praticamente sempre ogni volta che ho una divisione parallela un fork di attività prima o poi avrò un punto di sincronizzazione in cui ci si ferma e si aspetta che tutte le varie attività parallele siano giunte a termine tutte o un sotto insieme di le trovo graficamente facili da dire quindi le operazioni inversa rispetto al fork nel fork arriva un token e ne sputo fuori i tanti nel punto di sincronizzazione invece aspetto che arrivino tutti i token che stanno cadendo da strade diverse quando arrivano tutti li prendo li collasso e proseguo a questo punto col token singolo quindi smetto di pensare in parallelo e ricomincio a pensare in modo seriale in modo sequenziale prima di poter andare avanti il punto di sincronizzazione rilascia il token solamente quando al punto di sincronizzazione a lui sono arrivati tutti i token paralleli che sono stati creati prima come lo si disegna sempre con lo stesso simbolismo c'è una barretta ma fondamentalmente vediamo che qua entrano più frecce e ne esce una sola quindi questo lo chiamiamo punto di sincronizzazione per gli amici join quindi la divisione lo chiamiamo split oppure fork la il riunione dei flussi paralleli di esecuzione lo chiamiamo sincronizzazione oppure join fork join sono i nomi per gli amici graficamente è la stessa cosa ma semanticamente sono due bestie molto diverse e li distinguiamo solamente dal numero di frecce nel fork entrano frecce e ne escono molte nel join entrano molte frecce e ne esce una sola non ha senso avere una cosa in cui entriano tante frecce ne escano tante se vi salve ne mettete due perché altrimenti non capisci con che ordine allora qual è la semantica di questo blocco è che lui attende il primo token che arriva su questo punto di join arriva e si ferma in attesa quando arriverà anche il secondo allora entrambi proseguono sotto forma di un token unico unificato vengono vengono riunificati e proseguono questa è un'attesa improduttiva cioè non è un'attesa in cui c'è qualcuno che ci fa qualcosa con la pratica semplicemente è lì dal suo punto di vista sarebbe pronto per andare avanti ma non può andare avanti perché dall'altro lato manca un pezzo una volta che ho pagato il bollettino alla posta di quella cosa non me ne faccio più nulla non devo più fare azioni operazioni su quello è finito fosse per me bollettino posso andare direttamente in segreteria però se se manca invece la cosa di Alma Laurea in realtà non posso ma non perché ci sia ancora del lavoro da fare sul bollettino lui è finito è perché non può andare avanti se non ha finito anche qualcun altro quindi graficamente a livello di token noi possiamo pensare che da un certo ramo un'attività venga conclusa prima di un'altra e quindi l'esecuzione dell'ordine è finita e quindi il token viene liberato ma si si ferma lì il punto di join cosa dice si chiede quante frecce ho entranti io ne ho due quindi quanti token in ingresso mi servono per poter generare un token in uscita due se in ingresso ho meno di due token o tre o quattro o cinque secondo il numero di frecce entranti se ho meno di due token in questo caso non li posso lasciare passare li tengo in attesa deve arrivarmi dall'altra parte un altro token dello stesso tipo sempre fiaschetto la stessa pratica mi serve il certificato di alma laurea dello stesso studente che ha pagato il bollettino non di un altro perché sennò c'è un terzo ancora che fa domanda di tesi che c'entra c'è sempre la stessa pratica che si era divisa in rami paralleli e poi a un certo punto aspettiamo che tutti questi rami siano conclusi quindi a un certo punto anche l'altro ramo parallelo completa la propria attività e i due token arrivano alla soglia del punto di sincronizzazione a questo punto senza più attesa senza più indugio il punto di sincronizzazione ha le condizioni per poter rilasciare il token perché sui suoi ingressi ci sono tanti token quante strade anzi un pochino di più non basta avere due token bisogna avere un token da ciascuna strada non ne possono arrivare due da sinistra e nessuno da destra non sarebbe neanche possibile ma lui aspetta che su ciascuna strada ci sia in ingresso ci sia un token a questo punto fa l'operazione inversa i token hanno stati divisi clonati adesso lui li rifonde insieme e vabbè non c'è l'animazione e li lascia cadere dove devono andare in questo caso c'è un'attività quindi si fermeranno all'ingresso dell'attività se ci fosse per dire subito dopo un altro split quel token lì scende giù e poi si dividerà in altri due tre token che continueranno e si fermeranno ciascuno all'ingresso dell'attività corrispondente quindi questo ci serve per creare delle porzioni di lavoro in cui lo stesso processo lo stesso task viene diviso in più filoni indipendenti l'uno dall'altro che poi a seconda delle risorse che ho e delle organizzazioni interne che ho potranno essere svolti in parallelo oppure no ma di sicuro sappiamo che sono indipendenti e questo è il secondo il terzo costituto principale vediamo prima questi tre che sono l'abc linguaggio minimo per poter scrivere qualcosa di utile poi da domani faremo qualche esercizio e poi aggiungeremo quelli più complicati ma questi tre sono quelli di base sequenza parallelo e scelta scelta esclusiva if a seconda di certe condizioni faccio una cosa o faccio l'altra a seconda che la tesi sia triennale o magistrale le procedure per fare domande sono leggermente diverse perché quella magistrale devi chiedere la due metri prima invece quella triennale no e quindi ci sono vari cammini alternativi l'uno all'altro quindi o faccio uno o faccio l'altro sui quali installare il token installare il processo e quindi ho un punto ci sarà un punto all'interno del processo in cui decido o l'informazione per decidere devo andare di qua o devo andare di là devo applicare la procedura rapida o la procedura lunga allora a quel punto avrò le informazioni che mi permettano sulla base delle informazioni che appunto ci sono nel modello concettuale di poter decidere se vado di qua o se vado di là oppure sulla base dell'informazione che ha fornito l'utente in quel momento e quindi faccio una decisione faccio una scelta allora queste condizioni cioè come faccio a sapere se andare di qua o andare di là le esprimo di solito con una condizione booleana un'espressione booleana cioè un'espressione a cui io sia in grado di rispondere vero o falso queste condizioni le chiamiamo in grado si chiamano guardie quindi un punto di scelta è un punto in cui arrivo e ho varie guardie in uscita e io passerò dalla guardia vera la cui condizione condizione di guardia appunto risulta vera con i dati che ho in mano in questo momento nella pratica graficamente come si rappresenta si rappresenta con un rombo un po' simile ai simboli dei flowchart che facevamo qualche anno fa al primo anno quindi il punto di scelta di nuovo un punto lo vediamo come un rombetto piccolo è un elemento non bloccante se il token arriva e passa velocemente come può essere un fork la differenza rispetto al fork è che mentre nel fork entra un token e ne escono due nel punto di scelta entra un token e ne esce uno cioè non generano nuovi token deve solo decidere da che parte uscire allora cosa fa il token arriva e bussa le varie porte che sono le varie uscite e a ciascuna porta avremo descritto una condizione di guardia cioè una condizione booleana che dovrà essere vera o falsa e dovremo fare in modo dovremo scriverle bene in modo che una sola ed esattamente una sia vera in ogni caso cioè sarebbe un errore pensare che le due uscite fossero entrambe vere e allora che fa deciditi da caso o che tutte le uscite fossero tutte false un po' mica suicidarsi il token deve andare avanti quindi dobbiamo avere un insieme di condizioni che siano esaustive e mutuamente esclusive esaustive nel senso che in qualunque caso almeno una dovrà essere vera non è possibile che il token non soddisfi nessuna delle guardie e mutuamente esclusive nel senso che mai e poi mai dovrà esserci più di una guardia che è vera e dovrà esserci esattamente una guardia vera queste guardie sono noi le scriviamo così un po' in italiano ma sono delle condizioni che dipendono da informazioni che ho nel modello concettuale o che possono essere ricavate dalle informazioni che sono presenti nel modello concettuale per cui ad esempio nel caso dell'ordine è un ordine rapido o no? quindi le due guardie sono quella di sinistra è l'ordine è un ordine tipo rapido quella di destra è l'ordine non è un ordine di tipo rapido sono due guardie indipendenti per brevità qui ho messo else per dire il contrario di quello di prima ma in realtà sta a indicare appunto l'ordine non è di tipo quick e sto quick dov'è? il fatto che un ordine sia quick dicono o è un attributo dell'entità ordine nel modello concettuale oppure è un'informazione che si può ricavare in qualche modo dal modello concettuale magari è un attributo dell'utente quello è un utente avanzato che ha abilitato la modalità ordini veloci e quindi tutti gli ordini che lui piazza sono veloci non lo so qua devo vedere come è fatto il modello concettuale ma da qualche parte questa informazione dovrà saltare fuori ok? apprezzatamente il token arriva lì e il nodo di scelta come fa a decidere? non è mai l'intenzione queste sono scelte che vengono compiute immaginiamolo dal sistema informativo quindi lui deve avere tutti gli elementi per poter decidere l'altra complicazione rispetto ai flowchart è che non c'è un ordine di valutazione delle varie uscite io posso avere un nodo di scelta che ha magari quattro frecce che escono o tre o cinque ma non posso dire prova la prima poi se questa non è vera la seconda poi se non è vera la terza e così via se noi in linguaggio di programmazione scrivete una catena di if else if else if in realtà vengono eseguiti sempre in ordine quindi se la prima è vera verrà sempre presa questa anche se fosse poi verificata la seconda e la terza non viene neanche guardata e qui no qui vengono guardate tutte e una sola deve essere vera quindi facciamo attenzione quando scriviamo le condizioni A se la prima condizione è A la seconda condizione dovrà contenere il negato di A in qualche modo non potrà essere vera quando è falso A se non quando è falso A vabbè a questo punto poi è semplice nel senso che il token va da una parte e continua la sua vita e presumibilmente se va dalla parte sinistra dalla parte destra non ci passerà mai lo stesso token altri token sì quindi vabbè a livello grafico il token arriva no non arriva arriva qui e decide manca l'animazione allora abbiamo più strade possibili attraverso le quali il token può passare però abbiamo un solo nodo terminale del processo un solo nodo finale allora se dopo la scelta dopo la biforcazione questi due processi vanno avanti in modo del tutto indipendente allora alla fine poi ciascuno di due potrà puntare verso il nodo di termine del processo se però invece come succede quasi sempre dopo aver fatto attività alternative poi bisogna proseguire in modo comune pensiamo alla verniciatura delle auto che ho citato prima allora quando devo verniciare mi chiedo è metallizzato oppure no perché i processi di verniciatura sono molto diversi nei due casi ok allora vado a fare da una parte vado dall'altra ma poi ci sarà la fase di assemblaggio devo montare le portiere mettere le targhe gli interni eccetera che sono uguali indipendentemente da come ho verniciato allora flussi alternativi a un certo punto li voglio fare ricongiungere li faccio ricongiungere con un punto di unione che è un elemento direi quasi esclusivamente grafico cioè lui non fa niente lo indichiamo di nuovo con un rombo che ha tante frecce entranti una freccia uscente un po' come il join ma il join fa sincronizzazione aspetta che arrivino tutti eccetera lui semplicemente prende il token che gli arriva lo sbatte fuori finisce lì che gli arrivi da sinistra lo sbatte fuori sotto che gli arrivi da destra lo sbatte fuori sotto fa sempre questo lavoro non è bloccante non ferma nulla non fa nulla però serve dal punto di vista grafico a riunire flussi di decuzione diversi che può aver preso il token in passato in un flusso unico quindi qui vediamo una coppia scelta e ricongiungimento dei due flussi che va di pari passo quasi sempre vabbè qui c'è l'animazione che è quasi sempre ma non è un vincolo ad ogni punto di scelta c'è un punto di congiungimento e ad ogni fork c'è un join non è obbligatorio però se noi li manteniamo a coppie creiamo dei diagrammi che sono più strutturati nel senso della programmazione strutturata quindi sono annidabili o concepibili come diagrammi che possono essere fatti a blocchi isolati separabili e quindi sono più facili da leggere e poi da implementare ma non è un vincolo forte nel senso che a volte ci sono dei processi che sono più complicati e quindi non risulta né naturale né conveniente doverli rappresentare per forza in modo strutturato e quindi magari abbiamo dei fork senza un join corrispondente oppure abbiamo dei fork in cui c'è un ramo che continua all'infinito senza mai dover terminare senza mai dover contribuire alla sincronizzazione perché magari è un processo molto lungo e lui va continuando ad andare avanti però consideriamolo come ultima spiaggia nel senso che per quanto possibile cerchiamo sempre di tenere appaiati fork e join e scelta e ricongiungimento dei due rombi a due a due per quanto possibile se poi abbiamo un buon motivo per non farlo vabbè lo facciamo sapendo che stiamo creando maggiore complessità nel diagramma di processo e quindi poi porterà maggiore complessità di comprensione maggiori rischi di di errore di introdurre dei bachi nel sistema o anche solo nella documentazione perché ho fatto qualche cosa più complesso di quanto non riesco a comprendere il problema della strutturazione dei diagrammi che avevamo già anche il problema degli algoritmi è che i computer sono capaci di fare cose molto più complicate di quelle che noi umani siamo capaci di capire e quindi sta a noi riuscire a diciamo così prendere a piccole dosi le informazioni per poterle capire tutte prendere a piccole dosi le informazioni significa che i modelli che facciamo devono essere leggibili anche solo un pezzo per volta quindi se vedo che comincia qua e finisce qua io capisco che per ciò che precede e ciò che segue non mi interessa più sapere se sono passato sinistra o destra perché anche visivamente dico queste sono due scelte alternative che però sono limitate a quella fase di lavoro prima e dopo sono cose diverse al modello stesso non serve a me che documento serve invece poter fare questi ragionamenti di parzializzazione dell'informazione ok ecco qui c'è un esempio in cui abbiamo provato a mettere insieme i vari frammenti che abbiamo visto finora è un processo complessivo inizia e termina quando inizia il token arriva a ricevi ordine dopo che è stata completata la ricezione dell'ordine vado avanti su due filoni indipendenti qui c'è una fork che poi porterà la join la sotto da un lato elaboro l'ordine quindi lo eseguo faccio la lavorazione che devo fare e poi consegno per corriere espresso o per corriere normale post normale consegno normale dall'altro lato in parallelo a questo ho la parte economica quindi mando l'informazione per il pagamento e ricevo il pagamento l'ordine lo posso considerare chiuso solo dopo che la merce è stata spedita o per forma espressa o per forma normale e il pagamento è stato ricevuto allora a questo punto l'ordine è chiuso non ho altro da fare in risposta a questo evento a questo token che mi ha generato questo discorso di quick order o else ricordiamoci sempre che fruiscono non solo i token non solo la sincronizzazione ma anche i dati farà riferimento a un dato un'informazione che devo aver catturato la sopra quindi qui poi arriva qua poi passa avanti ma in qualche modo qualcosa che ho iniettato nel modello concettuale nell'istanza di ordine quando l'ho creato qualche passo fa viene consultato da questo blocco di scelta che permette di andare di qua oppure di là ecco in un'azienda in un sistema informativo complesso di processi di questo genere ce ne saranno moltissimi ciascuno con il suo inizio e la sua fine poi vedremo come fare a fare in modo che abbiano delle parti in comune che ci servono e ciascuno descrive un processo una procedura un task indipendente dagli altri e descrive come è articolato internamente qui non ho ancora detto chi deve fare questi blocchi ok? ma ci pensiamo più avanti per oggi grazie 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 grazie